Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale Oggi ragazzi siamo qua tornati con le pagelle di Juventus 3 Lazio 1 Allora, parto da una premessa importante Primo minuto, vi vorrei un po' chiedere scusa per quello che è stato ieri Perché se ho fatto dei video con una qualità bassa è perché non potevo fare altrimenti Io credo che più di così ieri non potevo fare Non è uscito il post partita di Napoli perché sinceramente vi posso dire la verità Non avevo alcuna voglia di vedere la partita Ci ho pensato, ho detto prima sì, poi no Ho detto non facciamolo, tanto ragazzi di Napoli l'ho guardato già tre volte Il giorno non l'ho guardato, quindi sti cazzi E' stata anche una bella partita, almeno da quello che ho letto Però sinceramente ieri sono stato in treno Poi la mattina ho dovuto fare altre commissioni, ero arrivato a fine giornata stremato Quindi non ho avuto la voglia sinceramente di fare il post partita del Napoli E quindi oggi vi ritroverete due post partita Quella dell'Atalanta e quella della Roma E lunedì spero di portare il Torino, mi piacerebbe tanto Detto questo partiamo prima di tutto a fare un'analisi della partita in un minuto e mezzo, due E poi partiamo i singoli perché mi piace sempre fare un'analisi della partita inizialmente E' stata una partita a senso unico se vogliamo E' stata una partita a senso unico con un più tempo Secondo me, diciamo, dominato dalla Juve Non per le occasioni create, non per il possesso palla Ma per il fatto che la Juventus è stata sempre molto compatta dietro Ha sofferto poco perché c'è stato un tiro di Kamada parato E allo stesso tempo è stato anche efficace La Juve è stata efficace Gol di Brovic da centro avanti vero Anche il gol di Chiesa Sì, ok, il portiere poteva far meglio Ma Chiesa sta giocando veramente bene È un altro giocatore Si vede E mentre nel secondo tempo A parte quella sofferenza Inizialmente nei primi 15-20 minuti Però anche lì Cioè, ragazzi, ok che stavamo soffrendo Però ragazzi, c'è un cadere che la Lazio Cioè, io vedo tutti i giocatori che non avevano fatto un passaggio buono Cioè, mi ricordo sempre Kamada per vie centrali Sempre provando a fare no, so il vero Oppure comunque un passaggio Niente, cioè, la Lazio è una squadra che ieri Non ha completato un passaggio Cioè, la Lazio sembrava una squadra totalmente morta ieri Quindi anche ragazzi con la gestione Era una partita vinta già dall'inizio Ma avevo una buona sensazione ieri La Lazio in casa la battiamo Allegri batte Sarri spesso Quindi era abbastanza positivo ieri Era abbastanza positivo E le mie sensazioni sono state confermate Il terzo gol di Vlau È incredibile Anche lì stop e tiro E boom Poi ripeto una grande Juventus E ora andiamo ad analizzare Non è Manchester City Perché è stato Una Juventus bella da guardare E ora andiamo ad analizzare i singoli 7 a Massimiliano Allegri E finalmente Finalmente sto iniziando a dare tanti voti positivi Perché ho dato 7,5 ad Allegri Comunque a Udine Effettivamente Ripensando c'era un voto alto Però comunque la prima di campionato Poi abbiamo dato 5 contro il Bologna Giusto 7 contro l'Empoli 7 anche oggi Perché ragazzi Allegri ha confermato Praticamente la stessa formazione A parte il portiere E l'ha zccata E quindi quando uno ha zccato la formazione Quando ti porti al risultato a casa Quando vinci e giochi bene Perché non gli posso dare meno di 7 Scusatemi Cioè Più stiava la Lazio Che sì è vero La Lazio non è stata per niente Favorita a baso nazionale Però se per questo anche la Juve Cioè Pensateci Quindi io credo che senza la sosta nazionale Questa partita Magari la vincevamo comunque Ma non così Non così facilmente 7 ad Allegri Perché appunto non ha sbagliato niente Non ha sbagliato niente È impeccabile E Lo spero di vedere un Allegri Che azzecca le partite Di a continuità alla squadra E Non voglio più un Allegri lì Che Sbaglia sempre Le formazioni Che mi ha fatto in passato Cioè Nel senso Io spero di vedere un Allegri vincente Quest'anno Spero di vedere un'altra Juve Come stavo ammirando E spero di vedere un Allegri Diverso Come Già lo stiamo iniziando a vedere Ora Passai invece a Scesni Voto 6 Perché ha fatto una bella parata Su Kamada Diciamo che il suo ritorno È stato importante Non ha dovuto fare grandi parate Però La sua partita l'ha fatta Danilo 6 e mezzo Ormai Ragazzi Questo giocatore è incredibile Cioè Benedetto il giorno Benedetto il giorno Che Danilo è arrivato alla continassa Cioè Quello scambio lì di Danilo Cansello Guardatelo Lo rifarei sempre Sempre Perché avercelo uno come Danilo Perché Danilo È il giocatore Di Serie A Probabilmente più sottovalutato Insieme ad altri Perché Ovviamente ragazzi Danilo È un giocatore Che Prende sempre Acquisisce sempre più Sicurezza Ogni partita Cioè L'ennesima sufficienza Larga che si prende Non ha sbagliato nulla Non ha toccato Così tanti palloni Oggi possiamo vederlo più Come da tezzino sinistro Quasi Però Che dire Cioè Sono stato ampiamente Soddisfatto Dalla sua prova Ormai non è più una novità Ragazzi Seiya Bremer Che Non mi ha fatto impazzire Contro Lazio Perché è vero che Immobile È stato chiuso alla grande Io non capisco Tutte quelle persone A cui Non sta piacendo Bremer Perché ho letto Tanti che davano Magari Brutta Cioè comunque La brutta prova Di Bremer A Empoli Perché Contro il Bologna Bremer Malissimo Però Bremer Mi sembra un giocatore Magari Non al top 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 Della forma Ma mi sembra un giocatore Molto essenziale Cioè Io Sono stato veramente Sono contentissimo Di avere un giocatore Come Bremer Che secondo me Andrà un po' controcorrente Ma sta dimostrando Di più di De Ligt Secondo me È un giocatore Che Ormai è anche lui Una ganazia Purtroppo Fa degli errori Stupidi Che Mi rimangono qui Perché L'errore di Comunicazione con Locatelli Non è solo colpa sua Poi andremo anche A parlare di Locatelli Non può essere accettabile Se gioca a questi livelli Però Se giocare Abbiamo visto anche Un Bremer Non magari alto Come in altre partite Ma Sicuramente È una buona prestazione Se è in mezzo Agatti Che ormai Non dico Se è preso la titolarità Perché Dove parte che ha giocato Al primo minuto Ma Per fortuna È stato panchinato Alexandro E Gatti Senz'altro Una garanzia Ripeto Una garanzia Anche oggi Ottima partita Non ha mai sofferto Cartillo giallo Vabbè Però Che dire C'è anche lui Sul centro-destra Quasi anche lui Come terzina A blocare Zaccagni Molto molto bene Molto molto bene Così come Altri giocatori Per quanto riguarda Con Mecikostic E indietro Si vede Ragazzi Costec È un giocatore Che ha bisogno Di tempo Perché Già contro l'Empoli Mi era piaciuto Ma Costec Può dare di più Costec Può dare Di più Perché è un giocatore Che a me Piacere veramente Tanto Cioè io Non lo cederei Per nessuna Ragione al mondo Ha una cifra Passa Però Costec Può dare di più Lo so Perché Costec È un giocatore Fondamentale E ieri Secondo me Ha fatto una partita Discreta Alla fine Non ha mai sofferto Lazzari Non ha mai sofferto Felipe Anderson Ha giocato come esterno Non ha neanche ricevuto Tanti palloni Insomma Non è una grande prestazione Ma Ha fatto il suo Ecco Passando invece A Cambiaso A cui ho dato Un 6 È entrato Sicuramente Non ha fatto male Sicuramente è entrato Anche bene Ma Io non sei Appunto Perché ha giocato Alla fine 30 minuti Quindi Non si può dare Un voto Troppo Comunque elevato Visto che ha giocato 30 minuti Ma ho visto un Cambiaso Che è entrato bene A partire in corso Passando invece Era più 6 e mezzo Buona partita Anche di Atria Era più Ripeto Non era più di Non lo so Faccio un esempio Non era più di Non lo so Novembre Contro la Lazio Non era più Che abbiamo magari Ammirato la scorsa stagione Fino ad aprile Però Un giocatore Molto importante Ripeto Un giocatore Che ha questa Juve Serve Un giocatore che ha questa Juve Serve È andato vicino A un gol Per due volte Purtroppo Provedere Gli era negato Però Un giocatore Ripeto Molto molto importante Per questa squadra 6 e mezzo Ha fatto la sua partita Ripeto Non è un rabbio stellare Ma Sicuramente un rabbio Che Rispetto alla Prima partita Contro Udinesi In cui A parte il gol Non mi aveva fatto impazzire Sta anche lui Iniziando a Rientrare in forma Passando invece Locatelli Voto 6 Allora A me A me Locatelli Non è dispiaciuto Oggi Diciamo che Ha fatto una partita Ordinata Ha fatto una partita Onesta Non è Il suo ruolo Quello del regista Parliamoci chiaro Ragazzi Parliamoci chiaro Non è un regista Lui Diciamo che Ripeto Non ha combinato Disastri Il gol Del Mi sembra Il primo gol Nasce anche Da un lancio Locatelli Gli do Quel mezzo voto In meno Perché Quell'errore Di Bremer È importante Cioè Ripeto Non puoi fare Questi errori qui Non puoi mai Fare questi errori qui Di comunicazioni Errori stupidi Però Comunque ha fatto Ripeto La sua partita 80% Dei passaggi Riusciti Deve migliorare Perché oggettivamente Dei migliorare Però Pianvi su Locatelli Che sicuramente Non è stato Quello nazionale Ma ha offerto Una buona prestazione Complesso Sempre Sempre ormai Da schermo 6 amiritti Con fagioli 6 e mezzo Subentrato 6 amiritti Perché Secondo me Non è un giocatore Da Juve L'ho già detto A più riprese Voglio dire che Ha necessariamente Bisogno Di un prestito Chiaro che Se al negri Lo mette dentro È perché Ci crede Di lui C'è poco da dire Però Sinceramente Non è quel giocatore Di cui Sono al momento Innamorato Fa la sua partita Però c'è anche Da dire una cosa Questo ragazzo Fino a Quanto? Fino a Due anni fa Giocava Con la Next Gen In Serie C E questo in due anni Ha giocato in Champions Sta giocando Tanti in campionato Cioè ragazzi Bisogna anche Essere realisti Quindi Da Miretti Mi aspetto Di più Perché comunque Miretti Ha fatto di più Di così Però ragazzi Cioè Miretti Quando ha giocato bene L'ha fatto perché Non è a troppo Sotto pressione Quando ha iniziato Un po' Quando ha iniziato Un po' A salire la pressione Miretti Fa un po' Più di fatica A reggerla Ma normale ragazzi Non è un robot Ha 18 anni Quanti ne ha Cioè Ha 3 anni In più di me Quindi Lo capisco Perfettamente Per carità Lui guadagni Milioni Io no Però Però comunque Il suo seno Prende Prestazione Buona Nel complesso Con facioli Che entra e si vede Che è più pronto Si vede che è più pronto È un giocatore Che non è ancora al top E anche lui indietro Temo che Lo rivedremo al top Tra 2-3 settimane Però Sicuramente Un facioli che rispetto Per esempio Alla partita contro il Bologna Dove non mi era piaciuto Oggi Ha fatto Di più Oggi ha fatto di più Con il suo ingresso La Juve secondo me È migliorata Anche al centrocampo Passando invece A McKennie Mamma mia Mamma mia 7 a McKennie Uno dei migliori in campo Ragazzi Uno dei migliori in campo Grande Partita Di McKennie Oggi Cioè ieri Scusatemi Grande partita di McKennie Più che altro Perché sta crescendo Cioè Io spero di vedere Un McKennie Che giochi così Tutta la stagione Non è Quello il suo ruolo Perché Ragazzi McKennie È tutto Che è un esterno Io Vedendo ancora McKennie Altre 5-2 Cioè due domande Me le faccio Perché non è Un esterno McKennie Perché non è Un giocatore veloce Non è un giocatore Che ha quelle caratteristiche Lì Però Sta giocando bene Sta giocando Più che bene Io ripeto Continuo a dire la mia Perché voglio essere Conerente A me McKennie Come giocatore Non fa impazzire Non è un giocatore Che mi piace così tanto Non è scarso Non mi fa impazzire Non è un fenomeno Io l'avrei ceduto Però se questo Giocatore Continua a giocare In questo modo Me lo tengo Volentieri Ripeto In questo momento A testa Abbiamo dei giocatori Non fenomenali Perché UEA Mi sembra un po' indietro McKennie Non può essere Il titolare Vi prego Perché comunque Oggi Cioè ieri Mamma mia Che disastro Ieri McKennie Ha fatto Un'ottima partita Di cui ora Andremo a parlare Ma allo stesso tempo McKennie Non può giocare Il titolare A San Siro Dai Cioè Se proprio Sei in emergenza Sì Però piuttosto Mettici Un cambiaso Adattato Piuttosto Con McKennie Il titolare Per 38 partite Io voglio bene A West Però 38 partite Il titolare No Può giocare Il titolare Contro delle squadre Non troppo forti Contro delle squadre Moneste E anche contro qualche bingo Come la Lazio Per esempio Però McKennie Ha garantito Tanta Ha garantito Tanto sacrificio Perché il primo gol Nasce Da una Bellezza Se vogliamo Di West McKennie Che tiene il palo In campo Poi Ho visto già I tifosi Della Lazio Rompe i coglioni La palla è dentro Cioè Veramente Ma tanto Avreste persa Comunque la partita La palla era Dentro L'ha messa dentro Cross al bacio Verplovic Ha realizzato anche Un altro assist Con un lancio lungo E quindi Ha fatto un'ottima partita Non ha mai sofferto Zaccagni Deve migliorare Ma Prestazione Più che positiva Vabbè Se via UEA Ha giocato poco Così Ha divorato un gol Davanti al portiere Davanti al portiere Passando invece A Chiesa Sette Sette Tutale Non è un giocatore Che Diciamo Può fare la seconda punta Per me Chiesa Un esterno Per me Chiesa Un esterno Però Effettivamente Un giocatore Che la conclusione Ce l'ha La conclusione Ce l'ha Fa un gran gol Il secondo gol È bellissimo Ho visto un Chiesa Sorridente Ho visto Un Chiesa Con una gamba Diversa Ma non perché Sono Io li avevo Tutti Ma perché Lo vedevo Un po' tutti Cioè Corre di più Presta di più Rispetto all'anno scorso Quindi Complimenti a Fede Chiesa Che è un giocatore Che ormai Non ha più bisogno Di una presentazione Grande partita Grande partita Ieri Di Federico Chiaro che Io Non credo mai Che vare a fare 14 gol Ma di sto passo Secondo me La doppia cifra La può raggiungere Almeno secondo me Quindi Grande parte Di Fedecchiesa Posa Nivece amico Vabbè Sono entrato Gli ultimi minuti 7 e mezza Migliori in campo 7 e mezzo Perché ha fatto Due gol Clamorosi Facendo davanti Piero Uno sul primo palo Con i piedi Debole A A A Beffare Provedere Secondo Il secondo Forse ancora più bello Stop E la mette lì Nell'angolino Cioè Non mi sarei mai Aspettato Il secondo gol Da Vlovic Quello lì Perché era Molto difficile Per idea Lukaku Due gol Non ti avrebbe mai Fatti Parliamoci chiaro E È un giocatore Che sta Crescendo sempre più 4 gol In 4 partite Adesso io Li voglio tutti E ma Allegri Lo vina Vlovic E ma Allegri Lo vina Vlovic Ha toccato 23 palloni Vlovic È vero che Con un altro Altenatore Potrebbe essere Molto più Ugile Ma Non ditemi Che Allegri Lo vina Vlovic Senz'altro Magari lo penalizza Un po' Però se Vlovic Fa 4 gol In 4 partite È per merito suo Perché lui Cima in campo Non il mister Ma secondo me Comunque Merito anche Il mister Se fa 4 gol Se È così motivato Se è un leader In campo Cioè Secondo me Poi io non sono lì Quindi non posso Saperlo Provo Ce non ho Delle grazie Tra i due C'è un buonissimo Rapporto Quindi Complimenti A Dujan E vabbè Ken Non ho neanche Litmap Visto che Sovascore Non ha messo Litmap Visto che ha giocato Nulla S&V Però ragazzi Sono molto contento Sono veramente Molto molto contento Fatemi sapere Qui sotto In commento Cosa ne pensate La partita Noi ci vediamo Domani Cioè No Noi ci vediamo oggi Con altri post partita Noi ci vediamo oggi Noi ci vediamo oggi